L'avevo ritti io! E' stato l'imbostante? 6.000 lire! Tanto ci voleva passare a cattavo per messere la pagnetta! E chi è questo la pagnetta? E' così si chiama d'annunzio! Il grande poeta il vato! Ovvero il nome è Rapagnetta! Ma perchè non lo sapevava! Ma lei aveva ritti! Ralla 6.000 lire e non ti creerà problemi! E tu hai! Non si potrebbero rassi 6.000 lire! Ma che ne sai tu e come sta tenendo la compagnia? 6.000 lire ma ti pare una bocca? Ma perchè? E tu sta scritta che io già parla per fare una cosa che si è sempre fatta da che mondo è mondo? Non lo sapevamo tutto quanto che ha d'annuncio dei miei soldi! E' andato perfino dal primo ministro per cercare di fermarvi! Gesù! E tu a noi non c'è niente! Ma che vabbè ma ricera? La forza mia è la pubblica! A Rapagnetta piace essere una roba mia! Eh! A me stasera la pubblica non mi pareva così contenta! Vici! Aspetta, aspetta! Fallo, fallo! Che vuoi dire? Con la pubblica mi ha abbandonato! Avete detto quando sono usciuto la falsa? Se l'hai paruto il teatro! Povero! Povero!